Controllo del territorio sabato sera dei carabinieri della Terenza di Favara. Uomini e mezzi hanno ispezionato e stazionato i luoghi maggiormente frequentati dai giovani e non solo. Da Piazza Itria ai dintorni di Piazza Cavour e Piazza De Vespri, nei pressi della Chiesa Madre. I carabinieri hanno fermato numerose autovetture. Il bilancio è di 30 controlli, con patenti ritirate per guida in stato di ebrezza e contravvenzioni per il mancato uso di cinture. In particolare, un giovane si sarebbe rifiutato di sottoporsi all'alcol test. Per lui è scattata la denuncia. Un chiaro segnale, quello voluto dare dal nuovo tenente dei carabinieri, Giovanni Casamassima, ai giovani. Evitare che il divertimento si possa trasformare in tragedia. Le attività dei militari, che in questo fine settimana si sono svolte anche ad Agrigento, hanno permesso di controllare complessivamente 80 persone, di cui 3 denunciate, 50 autovetture, di cui 4 sottoposte a sequestro e ritirate 5 carte di circolazione. I controlli, probabilmente, continueranno anche nei prossimi fine settimana.